Effetto LEP, livelli essenziali di prestazioni. Ne abbiamo sentito parlare in queste ultime settimane in relazione all'autonomia differenziata. Ora, con i fondi per gli asili nido, arriva la prima attuazione pratica di distribuzione in base ai costi standard e per il Veneto è una mazzata. In primis per la costruzione di nuove strutture per aumentare i posti, l'obiettivo europeo è quello di arrivare al 33%, in Veneto la copertura è in media al 28% con la maggior parte dei nidi che sono del privato sociale, di fronte a coperture assai inferiori di altre regioni, soprattutto al sud del paese. A lanciare l'allarme è Simonetta Rubinato, presidente di Fisma Treviso. Se, spiega Rubinato per certi versi, è anche giusto che i fondi per realizzare le strutture vadano laddove queste strutture non ci sono, altro discorso è quello per i costi di gestione. Per cui non capisco perché ci siano quelli che non hanno costruito i posti, che riceveranno a regime centinaia di milioni per la gestione ogni anno, consentendo alle famiglie di pagare rette irrisorie. Mentre chi ha già preparato i posti dovrà continuare a gestirli scaricando sulle famiglie la retta, salvo il bonus nido. Ecco quindi che alla fine, come già avvenuto su altri fronti dei fondi PNRR, i virtuosi vengono penalizzati. Ora la mia domanda è, lo Stato sta dando 7.660 euro a bambino, che è di più di quello che noi il costo intero, più i 1.500 euro di bonus ci mette lo Stato, quindi 9.200 euro per un posto lungo la penisola laddove non ce ne sono, qua arrivano pochissime di queste risorse, la metà di quello che dovrebbe essere. Ma alla fine il problema non è una discriminazione tra famiglie, tra chi potrà avere e godere di un abbattimento delle rette e chi no. Emblematico il caso di Valdobiadene, città rubinato, che ha un nido comunale e non riceverà un euro, di cui la richiesta di far sì che i soldi destinati dallo Stato al Veneto, pur inferiori a quelli di altre regioni, siano almeno distribuiti da chi conosce il territorio, e cioè la regione. almeno quel 5% che arriva, che a regime, cioè nel 2027, saranno 50-55 milioni. Diamoli a chi conosce il territorio, cioè la regione, che faccia una ripartizione equa tra tutti, in modo che questi soldini siano un beneficio per tutte le famiglie e non solo per coloro che hanno la fortuna, pensi un po' lei, di stare in un comune che non ha costruito e non ha i nidi.